Molti ciclisti però stamattina hanno partecipato a Bici in Città, la pedalata non competitiva, per promuovere l'uso delle due ruote e non solo. Vediamo. Bici in Città è tornata da Osta, una trentatresima edizione nel segno della legalità. E' questo infatti il tema locale scelto dall'organizzazione che ha studiato un percorso che ha portato i partecipanti davanti a luoghi simbolici come i palazzi delle istituzioni, la questura, il tribunale, le caserme di carabinieri e guardia di finanza e la sede di Libera, presente con un banchetto anche alla partenza di piazza Shanu. Un tracciato non competitivo di 8 chilometri da percorrere a passo rigorosamente turistico, per godersi la pedalata e magari riflettere anche sul significato della manifestazione. La legalità è importantissima, è la base di tutta la società praticamente. E' importante che ci si impegni tutti quanti. Ci si prepara, si distribuiscono le maglie, una bella giornata in famiglia. Sì, assolutamente, è una bella manifestazione, facciamo un giro in bicicletta tutti quanti e con i bambini è perfetta, è l'occasione giusta. Partecipa a Bici in città in compagnia. Siamo in compagnia, la mettono nel cestino, sta brava e ci facciamo questa bella passeggiata in bicicletta. A livello nazionale invece il filo conduttore è sempre quello della promozione, della cultura della bicicletta e del principio della mobilità sostenibile. Parlando di due ruote è centrale dunque per gli organizzatori che siano garantiti più spazi e più sicurezza ai ciclisti, soprattutto con l'aumento delle piste ciclabili. Accorgimenti che possono incidere in modo significativo sulle abitudini dei cittadini e più in generale sulla qualità della vita.